Aumentare le tariffe dell'acqua fa discutere la scelta non ancora operativa di alzare il costo del bene più prezioso nella nostra provincia. A denunciare il possibile rincaro è stato prima il Comitato Acqua Pubblica e poi alcuni primi cittadini del territorio che si sono detti contrari all'ipotesi nell'ambito della recente conferenza dei sindaci. Contrario anche con Rado Valsecchi, consigliere comunale di Appello per l'Ecco. Nella nostra provincia il ciclo dell'acqua è gestito dall'Arioreti Holding, società pubblica che fa riferimento a tutti i comuni e sono proprio i soci a dare indicazioni sulla gestione dell'acqua attraverso diversi organismi di controllo nei quali sedono i sindaci. E proprio i sindaci quasi quattro anni fa avevano varato il piano di aumento delle tariffe. L'ipotesi di un ritocco, spiega la società, era già contenuta nel piano d'ambito approvato nel luglio 2018 che prevedeva un possibile incremento del 5,8% dal 2020 con una previsione di investimenti pari a 115 milioni di euro tra il 2018 e il 2023. Come è noto, la rete idrica della nostra provincia necessita di molti interventi sia per contenere le perdite, ogni 100 litri d'acqua emessi, più di 30 vanno dispersi, sia per razionalizzare il sistema di depurazione. Consapevoli del momento difficile, prosegue la società pubblica, è stato proposto un possibile aumento del 3% delle tariffe a fronte di un piano di investimenti incrementato di ulteriori 28 milioni di euro. Fatti due conti, l'aumento ventilato si traduce in 9 euro l'anno per una famiglia media di tre componenti. Per cercare di compensare è stato poi disposto un bonus idrico nel 2021 di 500 mila euro che, nei fatti, permette di annullare il costo dell'acqua per le famiglie più bisognose. È però comprensibile che non tutti condividano la scelta di alzare il costo del bene più prezioso. A rischio non è certo il servizio, ma come puntualizza Radio Retti, gli interventi di ammodernamento previsti, quali il raddoppio dell'acquedotto Brianteo e la posa di un collettore foniario tra Civenna e Valmadrera perché a oggi l'intera sponda est dell'Ario scarica i refli direttamente all'Ario. Insomma, una questione di priorità.